Donato il portierato imbenzinato che fa pubblico l'attività di PR guarda che attività di PR eh? si non fa passare.. noi gli viene pure, gli ha dato pure fastidio ma lo abbiamo dovuto far passare lo sai tanto è bello Donato il portierato imbenzinato, Dona voglio sapere i commenti la partita di ieri. Voglio sapere un commento di ieri sera, come l'hai vissuta? Male, male, male. Come male, male, male? Sì, ha sofferto. Alla fine è goduto. Ieri pensi che c'era la partita di sei. Mi hanno fatto tre gintoni. A morte, quello nero, quello bianco è nato nero. Però poi l'uomo nero non lo dovete fare, non lo fate infanzare l'uomo nero. È buonissimo, è buonissimo. Niente, niente. Forza Roma, forza Rubis, sono finiti i tempi con la morte. Sempre, sempre. grande donato il portiera dove è girato. Manno, manno. Senti, ma stasera? Ah, lunedì niente. Nel weekend si carica. Manno, manno.